Giornata di disagio oggi a Napoli sul versante dei trasporti per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'USB. La linea 1 della metropolitana è chiusa, così come la funicolare di Montesanto e la centrale. Le tre linee garantiscono le corse solo in due fasce di garanzia. La funicolare di Chiaia non effettua le fermate intermedie e sono ferme le scale mobili dell'azienda napoletana Mobilità Al Bomero. Adesione pressoché totale per le linee del deposito cavalleggiari da Osta. Diversa invece la situazione negli altri impianti dove l'adesione si attesta al 30%. Il trasporto di superficie ha registrato una contrazione nella prima parte della giornata di circa il 50% del servizio programmato. La non completa adesione dei conducenti allo sciopero è da debitare alla paura di ritorsioni, scrivono i rappresentanti sindacali dell'USB. Situazione che continuiamo a denunciare da mesi alle amministrazioni e alle autorità competenti senza che alcun intervento sia stato finora effettuato. L'amministrazione comunale ha il dovere di ascoltare i lavoratori e rimuovere dal proprio incarico dirigenti e funzionari che hanno portato la NM al fallimento, scrive l'USB. Intanto la funivia del faiito, riaperta soltanto ieri con tanto di cerimonia di inaugurazione, oggi ha subito un nuovo stop per guasto tecnico. Problemi a un rullo nell'ingranaggio. Immediata la decisione di sospendere le corse e di sostituirle con autobus ogni mezz'ora. Per gli utenti tanta delusione per una riapertura attesa molti mesi, poi rimandata dopo ferragosto e infine subito sospesa. Tutti i passeggeri saliti oggi con la funivia dovranno rientrare in bus.